La barca personalizzata, eh? Che bella, eh? Mi aspettavo, guarda che... Questo è il Banco delle Peste in Puglia da Nauvius. Altro che fiori, oggi al tuo amore devi regalare un bel buchetto di ricci. Vieni in pescheria, vieni. Mamma mia, oggi con gli aperitivi, ragazzi, ci stiamo deliziando. Mamma mia, oggi dovete vedere questa barca personalizzata, eh? Che bella, eh? Questo è personalizzata, non è una barca sicana, ragazzi. Il cliente sceglie quello che vuole e noi facciamo questa composizione con questo spettacolo anche di perpaccio. E andiamo con le personalizzate. Beh, questa è una bella personalizzata, ragazzi. Questa è proprio da inquadrare ai nostri amici del bar. Beh, hai visto che finalmente ce l'abbiamo fatta, eh? Grazie, grazie. Beh, complimenti a voi, ragazzi. Vai, tu sei, vai! E' brillante, e' là, e' tu sei, è un brillante! Venga, ragazzi, com'è andata questa domenica? Grazie. 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 Grazie a tutti.